L'album si chiamerà Ujigami e come sempre noi alla ricerca di parole particolari e originali come nei titoli, nelle varie ricerche abbiamo trovato questa parola che aveva dentro sia il nome del gruppo sia un'assonanza con origami e dall'altra parte chiaramente questa parola ha un senso, ha il nome di una divinità shintoista, questo anche perché la musica in qualche modo per noi rappresenta una parte molto importante della nostra vita, quando scriviamo, quando componiamo i valori che ci accompagnano nella vita quotidiana chiaramente sono sempre molto presenti. Il nostro gruppo esiste ormai da un po' di anni e infatti questo che stiamo presentando è il nostro terzo disco, il terzo lavoro in studio, ci presentiamo con una formazione un pochino nuova perché abbiamo il nuovo bassista che è Cesare Pizzetti, il nostro nuovo contrabbassista e in più c'è anche questa novità per noi che usciremo quest'anno con questa nuova etichetta, nuova per noi ovviamente perché già esiste che è la Luminol, è un'etichetta che si occupa più di musica rock, prog rock, quindi qualcosa che potrebbe sembrare lontano da quello che è il nostro genere, invece in base anche al percorso che abbiamo fatto nei precedenti dischi diciamo che abbiamo unito un po' le nostre esperienze, le nostre attitudini e siamo arrivati anche ad unire al jazz che è stato un po' sempre il nostro punto di partenza anche dei pezzi un pochino più rock, ci spingiamo anche un po' su altri generi per cui diciamo che con questo disco abbiamo anche cercato di sperimentare un po'. Allora noi come diceva prima, esistiamo da un po' di anni, dal 2014 che siamo insieme e chiaramente avendo questa doppia dimensione, una parte a Milano, una parte in Austria il lavoro creativo non è così facile, tendenzialmente ci troviamo ogni due o tre mesi o andando in Austria o Konstantin appunto bene qua, lavoriamo provando i brani, cercando di svilupparli insieme partendo da un'idea che può nascere da un singolo e poi dopo la sviluppiamo insieme e successivamente appunto con l'apporto di tutti portiamo quell'idea che magari è più tematica a diventare un brano con tutta la parte di improvvisazione e struttura. Poi questo disco in particolare rispetto agli altri ha la differenza che abbiamo voluto aggiungere delle parti orchestrali che sono state registrate in Russia, Mosca, quindi noi abbiamo scritto questi arrangiamenti orchestrali di questi due brani, uno è Odota e l'altro e poi Joinen, abbiamo dato le parti, abbiamo fatto la registrazione in streaming e quindi abbiamo anche questo elemento di novità e questi due brani che hanno l'orchestra inserita all'interno dell'arrangiamento. E poi chiaramente tutto il resto è fatto live grazie anche a questa parte nuova dello studio, tutti i dischi sono stati fatti live anche i precedenti e però in questo caso abbiamo questa grande opportunità di avere gli elementi separati in ogni stanza quindi di poter avere un suono senza rientri e quindi effettivamente la parte poi improvvisativa è quella che poi dopo ne gode di più perché potendo sia registrare separatamente sia suonare contemporaneamente ci dà questa grande opportunità. Chiaramente questa cosa è anche fatta per dare una certa non soltanto istintività all'esecuzione dei brani ma anche una spontaneità che in altri casi non ci sarebbe. Oltre all'orchestra abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di ospitare il grande Fabrizio Bosso su un brano che si chiama Tano. Uccik was founded a few years ago in Perugia, beautiful city of Perugia, at the Umbria Jazz Clinics and from that moment we started to meet here in beautiful bluescore studio and also in Austria for some rehearsals and yeah it's always great to meet because here yeah life is nice we eat very beautiful stuff we have good coffee and we learn to know nice people and have a good time and also do some creative stuff we record music so when we were preparing for this album we couldn't meet as often as we wanted to because there was the Covid crisis but we found interesting ways to deal with it so they sent me some sessions and I could play with them and put my ideas in and send the sessions back so we developed stuff even if we couldn't see each other and then it was really nice to meet and finally put it together. Io sono molto contento di essere entrato a far parte di questo gruppo per molteplici ragioni nel senso che innanzitutto l'amicizia che ci lega da qualche anno e poi dal punto di vista musicale per me è stato un viaggio davvero interessante per diverse ragioni nel senso che innanzitutto mi è capitato molto poco spesso nel mio percorso musicale di suonare con con dei chitarristi ho suonato con tanti musicisti diversi ma la chitarra l'ho approfondita davvero poco quindi poter lavorare con in un gruppo dove la chitarra ha un ruolo assolutamente protagonista mi fa molto piacere poi l'incastro col pianoforte che è abbastanza inusuale non che non ci sia insomma ci sono tantissimi esempi però insomma non si vede tutti i giorni è un bellissimo impasto sonoro è un gioco di distorsioni di piano acustico di piano elettrico davvero molto interessante il lavoro di scrittura del gruppo poi mi coinvolge tantissimo perché mi sta insegnando a suonare su tempi dispari su sovrastrutture su cose che ho affrontato sempre non troppo approfonditamente nel mio percorso e in più aggiungo davvero il modo straordinario e molto particolare di suonare di Costantin che mi sta insegnando davvero davvero molto sul portamento del tempo sulle poliritmie sugli incastri ritmici insomma per me è davvero una grande scuola questo gruppo tra l'altro faccio una postilla a questo discorso che secondo me è abbastanza fondamentale e cioè il fatto che questo gruppo senza Costantin non esisterebbe perché la questione è che il modo di scrivere e di concepire le cose in primis da un punto di vista ritmico c'è il fatto che ci sia una persona che riesce ad eseguire o a pensare determinate cose cioè anche se poi chiaramente sono degli aspetti che magari certe volte possono passare in secondo piano ma una delle caratteristiche in realtà degli uji a differenza di altri gruppi con cui anche magari anche noi suoniamo è proprio il fatto di avere la possibilità di fare eseguire o di ricevere la Costantin dei suggerimenti o degli stimoli ritmici che in altri contesti non ci sono quindi gli uji che sono strettamente dipendenti dal modo di suonare suo e dalla possibilità che lui ha effettivamente di eseguire determinate cose poi chiaramente questa cosa si mischia anche diciamo anche all'aspetto umano chiaramente perché poi la cosa bella anche degli uji che c'è una certa condivisione come si può dire umana anche se siamo magari distanti e non ci vediamo tutti i giorni però la cosa bella è che c'è una univocità del poter eseguire questa musica perché ci sono queste persone che ne fanno parte e quindi il risultato sarebbe ovviamente estremamente diverso anche cambiando soltanto uno degli elementi degli uji che quindi questa è una cosa secondo me molto particolare c'è la band è una band perché ognuno dà il suo contributo personalissimo e definito quindi quando Marco ha detto che ho dato un'inputo sul ritmo penso sempre di un ciclo scrive qualcosa, o Edo scrive qualcosa, o qualcosa è scritto dalla band e magari faccio qualcosa ritmico con la band, ma sono inspiraato da quello che ho ricevuto nel primo posto e poi è riuscito, quindi è come un ciclo e abbiamo sviluppato insieme. Una cosa che è molto bella è dire che la musica da soli non esiste, esiste in quanto siamo tutti insieme e in questo momento in cui si improvvisa, in cui si realizza il disco nasce effettivamente la musica da tutti e quattro contemporaneamente. Per noi qui in Buscora abbiamo uno screensaver in cui compaiono Verdi, Stravinsky, Frank Zappa, Steve Vai, Wayne Shorter, Herbie Enco che tutti insieme, perché alla base del modo di fare musica degli UGIG la musica è una cosa sola a prescindere dalla divisione di genere, quindi il fatto di ascoltare la musica degli UGIG in qualche modo deve essere un suggerimento per capire che il fatto di fare jazz, di fare prog, di fare rock, di fare una qualsiasi cosa di definibile soltanto un qualcosa che serve per essere identificati o serve per essere in qualche modo limitati ma la musica ha questa grande caratteristica di essere una cosa sola, di non avere in realtà una distinzione in origine e poi l'uomo eventualmente gli da una distinzione e quindi la cosa che cerchiamo di fare e che vogliamo cercare di fare è il fatto di far sentire e percepire che non c'è una limitazione, anche per questo che possiamo anche far parte della Luminol Records perché dentro c'è la dimensione del jazz, unita la dimensione del prog, unita la fusion, unita in qualche momento all'hip hop unita alla musica classica con l'orchestra, al discorso poliritmico di altre culture e quindi in un certo senso che è anche il motivo per cui scegliamo determinati titoli stravaganti, dei pezzi piuttosto che dei dischi o quant'altro, è il fatto di farci sentire come una cosa sola di far sì che si abbattano le barriere, la musica ha questo grande pregio di creare dei punti tra le persone di poter comunicare con l'aspetto interiore delle persone e quindi cercare di capire che la lingua può essere una separazione la classificazione può essere una separazione ma in realtà dentro la musica è iscritta la possibilità di abbattere le separazioni abbattere le differenze, cercare di orientarsi tutti verso la percezione di essere una cosa unica e di essere una cosa sola la musica è un'altra cosa non è la musica la musica è un'altra cosa Grazie a tutti.